Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpy Tech Siamo in un aereo, a quanto pare, sì E qui c'è Berrazzo, che sta cercando di imboscarsi la droga Cercando di non farsi vedere il controllore, arrivato, arrivato Ci prenderanno tutti Stiamo andando in Somalia Per il raduno di equini e ciuchini, più grande del mondo Questa telecamera è troppo definita, mi fa vedere che ho le sopracciglia Oh, you touch my ta-la-la E ecco Berrazzo Crew Eccoci qua Allora, intervistiamo anche Jumpy che è venuto Vabbè, basta, no Invece ragazzi, per una delle cose serie Benvenuti Berrazzo Crew Vedi, vedi Allora, ragazzi, stiamo andando a Mestre Scusa, stiamo facendo un vlog Amici Amici Quindi ragazzi, lasciate subito Subito, in questo momento 15.000 like e faremo un tour per tutta Italia Nel centro commerciale come oggi Ogni tanto Ogni tanto E faremo un vlog Perché è questo quello che facciamo di lavoro Guarda, fai una cosa Prendi i miei bracci Adesso Guarda, guarda Dove stiamo? Dove stiamo? Pizzeria Pizzeria mi hai portato Brazzo, mi hai stato su un aereo E questo che cos'è? Che schifo Niente ragazzi, abbiamo finito di mangiare adesso E andiamo un attimo in albergo E arriviamo al centro commerciale Porte di Mestre E... Ho mangiato troppo Siamo arrivati Siamo per entrare Speriamo di trovarvi in tanti Sì, sì, dai Io sono poco agitato alla fine Andiamo? Andiamo Dai Che infinto come da Niente ragazzi Intanto Siamo entrati qua dentro al centro commerciale E ci inseguono già Ci inseguono già, sì E... Stiamo arrivando Dicono che c'è gente Oh 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 Lasce 3 1 1 Sì Anda Allora ragazzi, abbiamo un passo finito, è rimasto un passo finito, è rimasto ancora un po' di tempo. Qualcuno ancora c'è, ce lo sono passate due ore e 15 minuti, però siamo contenti, dai andiamo avanti. Allora ragazzi, siamo arrivati, rimbomba addirittura qua dentro, allora ragazzi, è finito gli ultimi due, non c'è nessuno che si può capire, è finito ragazzi, e vi ringrazio ovviamente per tutto l'affetto che ci ha fatto oggi. Allora ragazzi, eccomi qui, diciamo che questa giornata è stata spettacolare, siamo partiti da Roma prestissimo, siamo arrivati qui a Mestre, come avete ben visto, abbiamo fatto un sacco di cose, siamo andati a mangiare, poi siamo andati lì al centro commerciale, dove abbiamo incontrato un sacco di voi, eravate tantissimi, sono contento di tutto quello che è successo, adesso sono in albergo, sono dentro una stanza che è minuscola, beh, c'è un bordello qua così, una colina, un buco, un buco, un buco, sono stanco morto, probabilmente questo video sarà un video molto corto, ma bello. Quindi ragazzi, se volete altri video sul canale del tour, perché probabilmente potrebbe diventare un tour questo, magari nella prossima città dove andrò da solo o con Mike o con un altro membro della crew, lasciate 10.000 like e ci vediamo in un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.